Buonasera Carnezis, è simpatico fare il portiere del Napoli senza subire un tiro in porta, che dici Orestis? Non è così facile perché deve essere sempre attento, perché queste partite alla fine dici che sono andate bene, però deve essere sempre attento, concentrato, però alla fine da come sono arrivate le cose siamo tutti molto soddisfatti. Può dire che oggi ancora una volta il turnover di Carlo Ancelotti ha premiato? Sì, abbiamo una serie di partite, quindi dobbiamo cercare di essere tutti pronti, quello che ha fatto il mister è molto importante per chi non gioca tantissimo, per essere sempre a disposizione, credo che la squadra ha fatto molto molto bene nella maggior parte della partita, andiamo avanti così, sempre l'idea di vincere e fare al massimo. Anche per il tuo ruolo il portiere è stimolante il turnover, girare, sapere che si può giocare una domenica sì o una domenica no? Sì, come ho detto, quando giochi ogni due o tre giorni è importante di essere a disposizione, stiamo lavorando molto bene, posso dire che la squadra non può essere problema in questo ruolo, e chi gioca credo che può fare bene lo stesso, quindi anche per noi è molto importante giocare. Stasera è stata una vittoria importante, adesso vi aspetta la Juve, come vi state preparando? Sicuramente sappiamo tutti l'importanza di questa partita, è molto importante che arriveremo lì con un paio di buone prestazioni, anche vittorie, il Napoli sente sempre in campo per vincere, quindi cerchiamo di fare il nostro gioco e sempre l'idea di vincere. Grazie!